Di ritorno dal Libano del Sud, dove sono impegnati per garantire sicurezza e stabilità nella zona di confine con Israele, i militari della Brigata Aeromobile Friuli hanno partecipato con una rappresentanza alla Santa Messa di Ringraziamento, celebrata ieri dal Vicario Generale della Diocesi di Bologna, Monsignor Giovanni Silvagni, nella Chiesa di Santa Maria e San Valentino della Grada. Era presente anche il Generale Antonio Bettelli, Comandante della Brigata Friuli. E' esprimere proprio la partecipazione di tutta la Diocesi di Bologna alla gratitudine a Dio per il felice esito di questa missione. Davvero quello che facciamo anche nella specificità del ruolo che ci compete ha una rilevanza che va ben al di là di noi. La vostra missione ha portato onore non solo al vostro corpo, alla vostra brigata, ma anche alla terra da cui siete venuti, all'Italia, a Bologna. Quello che ognuno di noi può mettere in campo, quello che ognuno di noi è chiamato invece a compiere insieme al proprio dovere, è esprimere sempre, al massimo grado possibile, la propria umanità. Anche se dobbiamo, per motivi di sicurezza, impugnare le armi, anche se dobbiamo dare degli ordini, anche se dobbiamo esercitare legittimamente la forza, tutto questo è per il bene delle persone a cui siamo mandati. Grazie. 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 Grazie.